Sono Enzo Carinei, regista, attore, gli aggiungi un posto a tavola. Ti mando un bacio, tanti cari saluti, che Dio ti benedica. Ciao Silvana! A questo punto della sua carriera, sicuramente ne rimarranno ancora altri 20-30 anni di teatro da affrontare, è arrivato a doppiare il massimo il nostro Signore. Come si entra nel personaggio? Con una grossa tensione nervosa, però anche con una gran voglia di dire, di parlare, di raccontare. E in fin di conto il Signore ne sa una più del diavolo, si dice, per cui, meno male, per cui è un grande onore, un grande piacere. Guardando la sua filmografia spiccano ovviamente quelle pellicole che lei ha realizzato accanto a Totò. È stato senza dubbio un privilegio. Ecco, quanto è rimasto nella sua carriera, ma anche nel suo modo poi di affrontare umanamente le situazioni. Ne abbiamo vista un'altra, proprio qui all'ingresso, abbiamo assistito al suo dialogo con questa signora malata di Alzheimer, con la quale lei ha voluto parlare al telefono. Totò aveva una grande umanità, quindi da un lato penso che lei abbia avuto una grande impronta artistica, ma probabilmente anche quella umana ha inciso poi nella sua vita. Certamente, guardi, l'umanesimo è stato il periodino assoluto che il nostro paese è passato meglio di quello, non ce ne sono stati più altri. E quindi dobbiamo essere degli esseri umani. Totò lo era, come lo ero io. Mi chiamava, ecco, c'è un libro di Totò, uno dei tanti libri che magari non l'ha scritto lui, l'hanno scritto i vari parenti, che hanno anche abusato del nome del principe Antonio De Gurtis. Lui mi chiamava il Dottorino, che lui, siccome ci teneva molto a essere il principe Antonio De Gurtis, che lo fosse o non lo fosse non ha importanza. Lui nell'anima c'aveva il principe, era principe, un principe molto largo anche di bontà. Lei con i suoi 92 anni è ancora giovanissimo, è arrivato qui, diciamo, al nuovo Teatro Verdi nel momento più bello e brillante della sua carriera, però lei ha conosciuto un altro Teatro Verdi, che era quello originario di Brindisi, che si trovava in un'altra zona e che in qualche maniera ha tracciato una parte importante della cultura brindisina. Cosa ricorda lei di quel periodo delle sue venute al Verdi? Faccio un preambolo. Io soffro quando vado in una città e il vecchio teatro non c'è più. Soffro perché è un piccolissimo pezzetto del mio mondo, un piccolissimo pezzetto del mondo del teatro, della prosa, della commedia musicale, della rivista, del musical, che non c'è più. Mi è dispiaciuto, molto, sì. Ero venuto con, mi sembra, con la Moriconi, con le regie di Franco Enriguez, credo che avessimo fatto, mi ricordo, c'era la Bispedica Domata, Mauri, c'era Mauri dentro, e mi è dispiaciuto non ritrovarlo. Questo con il signor teatro, tanto di cappello, però è un'altra cosa, non c'è un'intimità, ecco. Testone, aggiungi un post a tavola, non vedi che sto arrivando?